Bene gente a WayOut, titolo sviluppato da Izlight Studios, pubblicato da EA e AI, o come cavolo si dice, mi confondo sempre, di cosa si tratta? È praticamente un gioco single player da giocare esclusivamente in cooperativa e di cosa racconta? Praticamente è la storia di due carcerati che si incontrano e decidono di fuggire appunto dalla loro prigione. È un titolo veramente divertente, nel momento in cui io sto registrando questa clip ho già fatto diverse ore di gioco, sono state veramente divertenti e incredibili. Giocherò questo titolo con Osroth che streama su Twitch, se riesco adesso vi metto anche il link in descrizione. La cosa figa è che chi ha una copia di questo titolo può invitare un amico online, quindi praticamente Osroth il gioco non l'ha acquistato, lo gioca gratuitamente grazie a me che ho sborsato i soldoni. Però vabbè, il gioco è stato veramente bello raga, vi lascio al gameplay, è una bellissima storia da seguire, non basatevi solamente sull'inizio perché è proprio come un film, va a crescere, c'è un crescendo che è veramente eccezionale. Bello, bello, veramente bello. Vi lascio il video. Bella. Bella, partiamo. Chissà cosa ci aspetta. Emozioni. Emozioni. Qua Osroth diventeremo... Qua è il tuo plan dopo questo? Non nemmeno. Non nemmeno pensi davvero nemmeno. Non nemmeno pensi davvero nemmeno pensi davvero nemmeno pensi davvero? Questo deve essere il primo per te, Mr. Overthinker. C'è una differenza tra overthinkingi cose e essere smart, Leo. C'è un'implice che non sono smart? Voi le parole, non sono mine. Eh, io non posso non essere smart in vostro book, ma ho getto fatto. Non nemmeno pensi. Oh, Ose, eh, qua dobbiamo scegliere. Chi vuoi? Allora, io prenderei il... Il basettone. Guarda, ma ci avrei scommesso che avresti scelto il basettone. Io preferisco il pizzettone. Vai. Ok, allora. Crimine, frode, appropriazione indebita, omicidio. Deve scontare... Eh, 14 anni. Ok, io sono quello bastardo figlio di puttana. Eh, io sono quello... Cucciolo. Irriascibile e ironico. Ok, il tuo è razionale. Dici, vedi, se fai ok. Il mio è incazzoso. Capito? Il tuo fa gli omicidi, però è tranquillo. Esatto, io sono il killer, quello freddo. Te sei quello buono che si incazza subito. Sì, quello che fa bordello, vabbè, dai. Ok, già, il carisma di personaggi, già così, insomma... Cioè, ben delineato, mi piace. Si adatta, si adatta. Non si... Vai, io sono pronto. Vai. Go. Diamo gli ok. ok come transform cover open the gates gates opening close the gates open 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 the gates no laura c'è la proposta sono io con la sinistra sono io riusciamo a vincitato ancora se scende l'uomo un po ecco io devo esplorare anche questo non non posso correre no 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 perchè la parte bella è che quando lui entra ovviamente non so come sta facendo il proprio fatto che condiviso e riesca a vedere figa la vera adesso posso dire che ho detto di giocare quello che fa lui ma se non c'è lo che batte niente il buono mamma mia che faccia che c'ha io e questo oh my god man this place is bad it's this place is bad I can't survive in here I don't belong in here man cosa sai di questo posto? what do you say you know about this place? it's bad news man bad fucking news you serious you serious the worst mistake of my life get my ass shattered here the worst mistake i managed get to crazy the studio annidormio so come noi siamo uncazionic e poco rispetto usi io vi dico non c'è un po' compresa ecco consiglio non è troppo stara caraccia scuola di volo romana annatto c'è non c'è aria oggi da voi i dialoghi mi sa che dobbiamo farli una volta perché sono un'alberna di cese se non me ne vado a malissimo no e firma su io non voglio fermare un cazzo vaffanculo ma io vi ho detto ecco l'incazzato ah no non posso proseguire dovrà andare a mancare all'aria anzi lo vanno che figata però a me ventri passagosa della avendo il best day of my life man i'm telling you best day ever best day ever come mai sono curioso come se a capito oma c'è che sto amato robo ottimo sostegno mix my day look great me spi sponso città di c'è un luogo io voglio ahahahah i questi mi chiappettano ors non voglio parlare se non lo so regolare scena di nudo signori volete per il fisico il culetto bello depilato come buttano una saponetta eh mi devi lasciare la vero è carina e divertente eh ti faccio vedere il mio culetto eh ma guardia pure qua il pizzozzi che tocca un gioco porno per dire comodissimo gioco porno che c'è qua vanno qua dietro ok voglio sai l'uomo guardia apri su ma che voglio? qualcosa che continua a suonare aspettate aspettate yeah eh si è visto qualcosa eh eh stava davvero male guarda non c'è un goccio di grasso oh qua c'è il boss il mio nome è Williams e questa è la mia prigione asua quali domande? sì eh quando ci siamo permesso di visitare qui? che figlio di puttana quali domande? quali domande? quali domande? non è un po' non è un po' non è un po' non è un po' la bella conversazione eh si è infatti molto diplomatico sì io hoia però becco questo polo questo per bene tanto per un po' lo beccheremo questo sai non c'è un po' non c'è un po' io non posso fare un po' non posso togliere come non c'è un po' che la parte scuola non c'è un po' non c'è un po' ma non c'è un po' scegliere come è unaلة cambia per favore più a volare nascondere Oh, ma tu mi vedi Oz? Eh, l'ho cercato Eh, c'ho una direzione Solti 49 Che cazzo si fa questo yoga? Ah, boh, io sono qua dietro Meditazione, man Che c'è quello? Che ti metterà libero Eh, perché sono stronti Oh, sì You don't look free to me, man I'm free, man You don't get it until you try it You want to show you how? Nah, not my thing Good luck with your freedom in there Peace, man Buona libertà Allora Cerchiamo il signor Scott che vengo Qui? Hey, Leo So Looks like you got yourself a new neighbor No, vicino? Ah, quindi siamo vicini Vediamo, chi è? I don't know, man Some white guy Thanks for the update Yeah, no problem Pazzo Libera me Oz Let's go Inside Hey, relax Ah, io ci devo Do it Go Take it easy, man What's wrong with you? Close up cell 48 Io sono la 47 Quindi adesso siamo fuori in teoria, giusto? Eh, boh, adesso Ah, sì, siamo fuori È probabile Eh, Leo Look, qualcuno vuole parlare da te E chi è? Oh, non lo so, man Tu sei qua Tu sei qua Tu sei qua Allora Questo è quello del prima, là Quello del saluta, come si chiama Allora, non lo so Ah, scopo, se parla un po' con tutti Allora, io, ah, guarda che mi alzo Ah, no, non sono io Trova i punti di interesse vicini con L2 Ah, tu sei sotto, vedi? Sei sotto di me Sei sotto di me? No Ah, ecco, ti rivedo Non ti rivedo Sono so depressed Corri Non ti rivedo Ma ti venga a prendere Non dovete farlo Ma che fai? Skilly? Ma che fai? Schilly? arrivare al massimo mi sto spaccando il dito raga quanto mi dai se arriva 20 ma nemmeno tocca la barra ma è base a barata dai scommettiamo ora scommettiamo ora non temporeggiare il gioco bar al gioco ma lo scommettino ora oppure facciamo a scazzottavo che vinci se per la vita mi sono spaccato il dito non c'era vado detto che non è scommesso ma a me non mi pare ma cosa sta facendo la cosa sta facendo quello che sta facendo se mi fa ma non se lo sta inchiapettando dovrei arrivare a 19 e poi vengo ma perché è tossa veramente cavolo volevo essere soliti sono sicuro che ci c'è il gioco di protezione in io ero un progetto che necessitano di prendere questo rischio beh se il cambiare la sua mente tu saprai dove trovare noi non cambierai la mia mente ok adesso fu fu qui è bello è bello vabbè tu sei non è ora è ora giocare è Ah! Cosa vuoi? Non c'è ciò che voglio, c'è ciò che vuole. Questo pezzo di c***o dovrebbe essere felice perché è all'interno! Potrebbe essere all'interno, ma ancora mi pagherà bene, eh? Il fatto è che mi pagherà davvero bene per ucciderti. E non mi piace davvero, quindi è una situazione per me. Ma è bella la mano? Eh, ehm... tanto a me di colpa al pubblico ma come lo spacco famo via via queste castagne e tutta roba di castagne bravo puri pizziatoni oh buono buono va vecchio e vaffanculo tocca a te dai che alla marione guardia capo sta calcolando i calci e pugni da dare guarda prechi dopo il cuore di soluzione Siamo allenata, siamo allenata. Siamo allenata. Tu, continui movendo. Sia, stai da fuori da me, ok? Allora... Allora... Volevo... Questa cosa anche si verra? Vedo subito. Volevo... Fiocchio google... S 미... Perchè già stava bene quella dieta... Dai, mangiamo insieme oggi. Che ti passa? E qua? Oh! Io andiamo a mangiare... Ahah! Come si, due due amici, hanno un chattolo in un'altra cosa. Voglio mangiare. Ehi! Cosa parla? No! Non ho sentito nessuno! Me nemmeno. Cosa è che sti vanno due sveglie? Ah! You hearing me now? Ehi, what the hell are you doing? Ah! Don't fuck with me when I'm hungry! You sure, damn it, go ahead! Shit! Eh, regà, è bellissimo sto gioco! C'è cosa a prendere... Cioè, prendi a pizze tu, oddio! Eh, che schiaffuoi li hai tirato! Gli ho spallato la palliba! Grazie. Is that it? Yeah! What do you think this is? The goddamn restaurant? You can smell it! Hey you, here I come! Ah! Dai, vengarti una mano, dai! Uuuuuh! Ah, grandi! Oh! Amo! Damn! Buono! Vai, vai, fagli il culo, fagli il culo! Oh, c*****o! Oh, c*****o! Oh, c*****o! Eh, mi raccoglie il culo anche per te, eh? Oh, c*****o! Eh, ma è t***o anche per te, eh! Oh, c*****o! Oh, c*****o! Oh, c*****o! Ti devo evo a lontana! Oh, io, a lontana! l'ho non reagisce ma io mi sto allontanando come un inseguimento mi sto tirando tutte le parole che trovo e qua c'è il scemo male Sì, ma quello l'ha ucciso, l'ha preso al cuore La polvere addosso, hai visto? Quella guardia l'ha uccisa, l'ha preso al cuore col coltello Porco cane e botte, sono aggressivi qua dentro Questa è una cia bella Cucciola Sì, mi odio queste cose Non hai delle pezze cose da preoccupare in qui Sì, mi odio Sì, mi odio Sì, mi odio Sì, mi odio Sì, sì, grazie Vedete, come no Che rucce, eh? C'è il naso bruttissimo comunque È una rampa, non è il naso È il cacciavite, eh Eh, quello lo devi prendere, quel cacciavite È il 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 cacciavite Sì, mi odio Grazie Mi ha costretto ad aiutarti praticamente C'è qualcosa che ho bisogno C'è qualcosa che ho bisogno C'è qualcosa? C'è qualcosa, ma È semplice È solo bisogna guardare il mio occhio mentre ho capire, è tutto È tutto Sì, mi interessa Non lo so, non lo so Non lo so, lo so, mi farò Mi farò Sì, sì, sì C'è cosa? Non puoi non andare fuori C'è anche qui C'è l'autorità Sì, non ho una scuola Non ho una scuola Allora, allora, io te aiutare Sì 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 Bene, gente, l'avventura continua nel prossimo video Come sempre Se vi va un bel piacere iscrizione al canale Vi saluta anche Oseroth che sta facendo L'handicappato, non si capisce Al prossimo video Bella